Se ti puoi andare ad allenare 3, 4 o 5 volte a settimana per questo 2024, qual è la miglior split di allenamento che gli studi ci vanno a consigliare? Fortunatamente gli studi ci vengono in aiuto e ci forniscono una meta-analisi di oltre 111 studi. Per chi non lo sapesse una meta-analisi è un'analisi degli studi che ha quindi una valenza molto superiore rispetto ad un singolo studio. Ecco, questa meta-analisi va ad analizzare oltre 2000 soggetti e ci va a dare una risposta per ogni situazione. Andiamo a parlare in questo video. Ciao, il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale e sono una delle pochissime persone a parlare di allenamento, non per sentito dire perché qualcosa mi piaccia o perché sia sempre fatto così, no, al contrario della stragrande maggioranza delle persone, quindi non ci basiamo su questa roba qua, noi andiamo a vedere ciò che gli studi ci dicono, ciò che la biomeccanica ci dice e lo andiamo ad applicare nell'allenamento di tutti i giorni. E attenzione, magari molto spesso una persona dice no ma io mi baso sugli studi scientifici e poi gli studi scientifici nemmeno li sa leggere, quindi fate attenzione. E in questo video qua, per l'appunto, come dicevo, abbiamo una meta-analisi di oltre 111 studi, quindi praticamente si vanno ad analizzare oltre 111 studi e si va a fare un sunto di tutti gli studi e quindi come si capisce ha una valenza molto superiore ad un singolo studio, quindi se una persona ti va a dire ah ma questo studio dice questo, se esiste una meta-analisi lo studio ha una valenza inferiore. E in particolar modo sono stati analizzati quasi 2000 persone, quindi 2000 atleti, che vanno praticamente dal neofita all'avanzato, quindi neanche uno può dire ah no ma è solo sui neofiti, ah no ma è solo sugli avanzati, su tutti, sono state utilizzate split di diverso tipo, split full body o anche dette total body, split dove sono andati ad allenare ciascun atleta, un gruppo muscolare per allenamento, quindi per esempio solo schiena, solo petto, solo spalle e così via, e quindi veramente ci forniscono un'analisi molto molto completa. Ora prima di andare a vedere tutto il sunto e di capire poi quindi come muoverci, ricordo che se una volta finito di vedere il video vorrei smettere di allenarti a caso, seguendo magari le schedine sfigate che ti danno in palestra o che ti fa il personal trainer che ha fatto il corso senza mai poi studiare nient'altro, un pacchetto chiamato Ascienza Dura che ad oggi conta 33 programmi di allenamento, dove ciascun programma non ha una schedina sfigata, un foglietto, un pezzo di carta di nessuna valenza, ma è un vero e proprio programma di decine e decine di pagine pratiche con tutte le istruzioni di cosa andare a fare di giorno in giorno, ogni esercizio ha la propria spiegazione, il numero di serie, il numero di ripetizioni, il tempo di recupero da andare a fare, eventuali sostituzioni per chi si allena in palestra o si allena a casa, ci sono programmi monofrequenza e multifrequenza dai 3 fino ai 7 giorni di allenamento a settimana, ci sono programmi letteralmente per tutte le esigenze e comunicazione di servizio è uscito un nuovo programma di allenamento ideale per la palestra chiamato avanzato duro volume 7.0 che fa un grande utilizzo degli esercizi unilaterali, se non sapete quali siano i benefici ho fatto un video a riguardo, invece per la casa è uscito il programma no macchinari duro perfetto per chi si allena per esempio a casa con solo manubi, una sbarra per le trazioni e una panca regolabile, ecco ciascun programma può essere preso anche singolarmente e ha una durata di minimo 12 settimane, oppure si può prendere l'intero pacchetto, che ad oggi conta più di 3 anni, quasi 4, di programmi di allenamento ed eventualmente se ne prendi uno singolo poi puoi fare la progredda all'intero percorso, tutto te lo lascio giù in descrizione e nei commenti se vuoi smettere veramente di allenarti a caso, questo è il percorso giusto per questo 2024. Allora cosa ci dice questa meta analisi? La meta analisi ci dice che tra le varie split non vi è nessuna differenza in termini di risultati, quindi che andare ad utilizzare una split o un'altra non vada a portare risultati, attenzione però ci sono tante altre informazioni che ci va a dare che ti serviranno affinché la tua split poi funzioni, perché è vero che tutte le split portano gli stessi risultati, ma c'è una variabile molto molto importante che può andare ad impattare negativamente sui risultati e quindi sul funzionamento della split. Quindi se una persona dice, ah no a me questa split non ha funzionato, non ha funzionato molto probabilmente perché c'è questa variabile negativa di cui adesso noi andiamo a parlare, che probabilmente stava andando a bloccare o a ridurre i risultati che avresti potuto ottenere. Di cosa stiamo parlando? La meta analisi ha visto che la variabile che andava ad impattare negativamente l'allenamento era il volume, in particolar modo per semplicità il quantitativo di serie per gruppo muscolare per allenamento. Ecco, andando a fare troppo volume, dove per troppo chiaramente va contestualizzato in base a quanto volume settimanale si va a fare, quindi quante serie settimanali per gruppo muscolare si va a fare, quante volte a settimana andiamo per esempio ad allenare un muscolo e quindi c'è il singolo contesto e questo si ricollega poi anche ad altre informazioni che abbiamo visto nei video passati che ci dicono che fra andare ad allenare un muscolo una volta a settimana o più volte a settimana non vi sia differenza a patto che il volume settimanale sia eguagliato, quindi se il quantitativo di serie settimanale è eguagliato, se chiaramente poi andiamo a fare tutto nel modo corretto. E abbiamo visto in questo video qua come la multifrequenza per molte persone finisca per non funzionare perché? Perché si finisce per mettere troppo volume all'interno della settimana e quindi ritorniamo a ciò che questa meta-analisi ci va a dire. Oltre a ciò ci va a confermare un'altra cosa, ovvero che c'è un quantitativo minimo di volume per andare ad ottenere risultati ma c'è, ancora più importante, un volume massimo oltre il quale i risultati potrebbero non arrivare di più o addirittura andare a diminuire rispetto a se ci fermassimo prima. E in linea generale abbiamo già visto questa informazione, questo a meta-analisi ce la confermo ulteriormente che stiamo parlando di circa 3-6 serie per gruppo muscolare per allenamento quando ci andiamo ad allenare bene e per bene intendiamo al cedimento quando andiamo ad utilizzare un carico inferiore all'85% del massimale o una ripetizione dal cedimento o cedimento quando andiamo ad utilizzare un carico superiore all'85%. Quando invece andiamo a superare le 7-8 serie per gruppo muscolare per allenamento ecco che questo sembrerebbe essere il limite oltre il quale i risultati sembrerebbero arrivare meno. Attenzione, questo implica che si vada ad utilizzare un tempo di recupero giusto dove per giusto intendiamo almeno 2-3 minuti fra le serie. Se una persona si va ad allenare in modo non ottimale con tempi di recupero più bassi abbiamo visto come questo richieda il doppio del volume e quindi praticamente se stiamo parlando di 3-6 serie stiamo quindi indicando andando a fare 6-12 serie e per limite massimo stiamo parlando di 14-16 serie. Però attenzione che questo approccio qua non è quello ottimale se vuoi massimizzare i risultati resta attenzione all'intensità come ho detto poco fa. Quindi puoi andare a scegliere se ti alleni 3-4-5 volte a settimana alla split che più preferisci devi però assicurarti di non avere troppo volume resta maggiore attenzione all'intensità e poi eventualmente valuterai di incrementare il volume. Come linea generale però parti sempre basso 1-2 serie al cedimento o come abbiamo detto una ripetizione dal cedimento se utilizzi un carico superiore all'85% parti da lì e poi valuti in base ai risultati che stai ottenendo. Detto ciò io ricordo che tutte queste informazioni sono all'interno di Ascienza Dura dove come dicevo ci sono ad oggi 33 programmi di allenamento e chiaramente ci sono programmi in full body, upper lower, push, pull, exo, split, miste monofrequenza, multifrequenza dai 3 fino ai 7 giorni di una settimana ci sono programmi per neofiti, per avanzati, per ogni singola esigenza per la palestra, per la casa per esempio il nuovissimo avanzato duro volume 7.0 richiede 4 allenamenti a settimana per chi vuole è un programma che come dicevo va a fare un grande utilizzo degli esercizi unilaterali che ci permettono di avere uno stimolo ancora maggiore rispetto agli esercizi bilaterali se vai nella pagina di presentazione è tutto spiegato c'è il programma no macchinari duro per la casa perfetto per chi si allena con poca attrezzatura e manubi, una panca, eventualmente un bilanciere, una sbarra per le trazioni ma ci sono veramente programmi per ogni singola esigenza e attenzione non sono foglietti a caso come questi qui che ti danno in palestra ma sono veri e propri programmi che ti dicono il numero di serie, il numero di petizioni il tempo di recupero, ti danno la spiegazione dell'esercizio ogni esercizio ha un link che ti riporta al proprio video tutorial infatti accederà ad una videoteca di oltre 300 video tutorial in continuo aggiornamento è possibile anche prendere un singolo programma di allenamento e poi valutare di fare l'upgrade pagando solo la differenza all'intero percorso e se non sai quale programma sia meglio per te puoi iscrivervi ad Alessandro, il mio assistente a questo email qua o a questo romanzo qui, aiutare a lui a selezionare il migliore per te o in alternativa è possibile accedere alla Baldini Academy che è l'insieme di tutte le mie guide su alimentazione, allenamento e integrazione ti prendi a scienza dura ma ti prendi anche programmi alimentari per la massa per la definizione dove tutti i calcoli sono già stati fatti tutti gli esempi sono pronti, personalizzabili per univori vegani e vegetariani ti prendi la guida sull'integrazione ti prendi tutte le altre guide che io ho e tutte le guide future che usciranno tu le avrai incluse gratuitamente perché con questo pacchetto mi dai fiducia una volta e poi non paghi più e avrai sempre tutto gratuito tutto in descrizione e nei commenti di nuovo per qualsiasi domanda sui miei percorso su come funzionassero se potessero fare per te puoi iscrivervi ad Alessandro, il mio assistente a questo email qua o questo numero di WhatsApp qui è sempre disponibile per tutte le necessità e noi come sempre ci vediamo tutti i geni all'una sempre su questo canale ciao a tutti peace